Qualunque cosa mi succederà ho scelto Dio. Era solita ripetere la ragazza protagonista della storia di oggi. Per potervela raccontare, noi oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere qui la sorella Rosa Maria Scorese, che io ringrazio per aver trascorso con noi questa domenica pomeriggio, e la persona di cui vi parliamo, quest'anima bellissima, è Santa Scorese. Santa di nome e di fatto, perché poi scopriremo che cosa sta succedendo. Intanto Rosa Maria, con tutta la fatica che si fa nel ricordare delle storie che sono sì d'amore, ma anche di sangue, ti chiedo di ricordarci chi era santa. Intanto grazie davvero per questa bella possibilità di riportare dal cuore la storia di questa mia sorella, la mia unica sorella più piccola, ma molto più grande, devo sempre ammettere, che la più grande nella nostra vita familiare è sempre stata lei, per il carattere molto volitivo, per tutta la bellezza che ha sempre emanato, perché è stata una bambina vivace, di quelle che si fa notare perché è amante proprio della vita. Io ne parlo sempre al presente, perché non perché io sia pazza, mi hanno già dato della pazza, ma in realtà è una presenza... D'amore che forse chi questo amore ne lo conosce non lo può capire, ma lo capirà. Esatto, è una ragazza sempre viva, così come mamma appunto la chiamava, la peperina, Ercolina sempre in piedi, mi piace ripeterlo perché dà l'idea veramente di quella che questa bambina sin da piccolissima era. Piena di interessi, innamorata di Renato Zero, della sua musica, piena di amici. Sì, fischiava come fischiano i pastori, portava i capelli sempre corti corti, perché appunto era una bimbetta molto essenziale, diremmo, molto creativa così, però anche con una forza interiore, una capacità di mettersi in gioco e di cercare di capire cosa essere e come poter essere un dono sin da piccolissima. Senti Rosa Maria, quando è che Dio in un modo o in un altro comincia a farsi sentire nella vita di questa ragazza? Beh, dicevo proprio già dalla scuola elementare, da quando noi frequentavamo l'oratorio dei Salesiani al Redentore a Bari, io non ricordo, ma anche il suo sguardo di fronte a Maria Auxiliatrice. Già dalla scuola appunto elementare, dal periodo in cui andavamo al catechismo e frequentavamo il gruppo, lei aveva questo desiderio di mettersi in contatto e di vivere delle esperienze forti con gli adulti di riferimento e quindi col parroco per esempio del Redentore Don Rosario Adamo, al quale scriveva lettere incredibili anche quando Don Rosario cambiò città, si scambiavano delle lettere, allora i fogli protocollo proprio di lettere. Nasce nel 68 non l'abbiamo detto, quindi cominciamo anche un po' a familiarizzare con gli anni di cui stiamo parlando. Senti Rosa Maria, per una sorella che sta dall'altra parte e che vede questo scricciolo di donna così testarda, fare anche dei discorsi importanti, impegnarsi, che reazione c'è per te, ma anche per mamma e per papà? Qualche dubbio, qualche domanda cominciate a farvela sul futuro, sul destino di questa ragazza o no? Per noi era normale che Santa fosse così perché vivevamo tutti una dimensione più o meno da cattolici praticanti. Lo speciale forse lo coglievo appena io perché rispetto a me che ero più tranquilla, mi lasciavo prendere da altre cose, io vedevo che lei aveva una verve particolare, ma questo desiderio, questo anelito di andare veramente oltre. Anche la perseveranza nella preghiera era piccolissima, io ricordo il mese di maggio e Santa che è piccina nel quartiere Libertà di Bari, che è un quartiere che spesso balza le cronache, è la cronaca nera, ma per noi era normale viverlo, lasciava tutto e andava in chiesa per la messa, per il rosario, ma non da bigotta, era insospettabile Santa. Quindi anche i miei non coglievano esattamente, anche perché era la piccola di casa che riusciva sempre a creare tutto un mondo di allegria, di bellezza, di normalità. Anche riuscire a convincere papà, papà poliziotto, quindi rigoroso, anche riuscire in un certo senso a sviare, torna a casa presto, non far tardi, denota una grande forza interiore ma anche una grande testardaggine. C'è un episodio in cui, Rosa Maria, tu realmente capisci che forse quel voler essere di Dio o voler essere molto vicino a Dio avrebbe in un modo e in un altro condizionato la sua vita. Quando è che capisci che qualcosa sta crescendo? Beh, questa cosa è cresciuta di giorno in giorno, però ricordo esattamente fra gli altri, insomma, il momento in cui una sera eravamo nei nostri letti nella stanzetta, era insomma un periodo d'avvento e lei mi disse così su due piedi, senti Ro, ho pensato quest'anno non ci facciamo fare i regali di Natale, poi decideva lei, insomma, per entrambe. Sì, sì. Che dici se ci facciamo regalare soldi e li portiamo alle suore di Madre Teresa a Bari. Questa cosa un attimo mi destabilizzò, perché conoscendo anche il suo modo di pregare, di mettersi in gioco, di essere presente nella vita degli ultimi, cominciò a farmi pensare che al di là del suo desiderio, per esempio, di essere, stavamo parlando della primissima giovinezza, insomma, degli anni del liceo, mi fece cominciare a pensare che il suo desiderio di essere una medica, una dottoressa, andava al di là del voler essere in un ospedale nella nostra terra e quindi questa cosa delle suore di Madre Teresa mi fece pensare che davvero voleva fare della sua vita un dono. Io ho sette al suo gioco, che era anche un po' il gioco di Dio. Quindi nessun regalo quell'anno. Nessun regalo quell'anno, i soldi che portammo poi alle suore di Madre Teresa. Rosa Maria, ti fermo e guardo un attimo in camera al nostro pubblico. Santa Scoresi ha lasciato dei carteggi d'amore, così, Monsignor Magrassi, ebbe modo di definire questo diario che poi verrà trovato, che inizialmente voleva essere bruciato, ma invece che verrà trovato in seguito. Noi oggi abbiamo strappato una pagina di questo diario e abbiamo chiesto a un grande talento emergente, Federica Torchetti, che ci ha fatto l'onore di trascorrere questo pomeriggio con noi, di leggerne un brano. Sarà il primo dei due che ascolterete. Guardate e ascoltate, per favore. Mamma mia, non mi rendo conto di ciò che sta accadendo dentro di me e intorno. Certo, ora sono più tranquilla, ma non mi sembra vero di aver scelto. Tante volte, quando ho pensato alla possibilità di scegliere una vita consacrata, ho pensato che non avrei sentito dolore nel distaccarmi dalle cose, dalle persone, ma non sarei stata normale. In questi giorni, la parte umana sta cercando forse di emergere ancora più del solito, perché non vuole cedere. Beh, credo che questo sia normale, ma io resto comunque una donna, ma una che ha scelto la porta più stretta e che spera di farcela. Il plauso all'incanto che ci ha regalato Federica Torchetti è avvolto nel silenzio che è sceso in questo studio. Perché Federica, che ci ha aiutato tra l'altro a scegliere il brano, lo scopriremo tra poco. Ritorniamo su Rosa Maria. Sono pagine in cui si ascolta e si vede un combattimento, perché Santa è molto consapevole di cosa significhi seguire Dio. Si fa guidare, non lascia niente al caso, ci saranno le missionari dell'Immacolata ad aiutare, il suo pare spirituale. Parallelamente a questa crescita spirituale, però, cominciano anche dei tormenti che poi ne condizioneranno gli ultimi tre anni della vita. Di che cosa parliamo, Rosa Maria? Esattamente. Santa, in quel periodo, aveva fatto degli incontri importantissimi, appunto. Le missionari dell'Immacolata Padre Colbe, con Carmencita Piccaro, che diventa la sua mamma spirituale. Il movimento dei Focolari, di Chiara Lubic, di cui prende tutta la luce. E poi, oltretutto, c'è sempre questa storia di Maria come donna, modello, madre, sorella, in entrambi i movimenti e in tutto quello che Santa sceglie di fare. E più Santa, appunto, cominciava a scegliere, anche di scrivere il diario, grazie al suggerimento di Carmencita Piccaro, quel diario di cui abbiamo detto, che avrei voluto poi bruciare, più a quel punto comincia a comparire un'ombra nella sua vita, un'ombra che non l'abbandonerà. C'eravamo da poco trasferiti a Palo del Colle, da Bari, appunto, vivevamo nel cuore del capoluogo pugliese. Santa comincia ad essere perseguitata da un giovane che l'aveva semplicemente vista passare una delle vie del centro di Bari, mentre lei andava a trovare il suo ex professore d'inglese del liceo classico del ginnasio che aveva frequentato il flacco a Bari, perché voleva, appunto, comunque farsi una chiacchierata sempre rispetto ai temi della scelta e della vocazione. Era il parroco della cattedrale. Santa viene seguita da questo giovane e non se ne libererà mai più. In realtà non la conosceva, ma avevano forse frequentato, cioè sicuramente frequentato gli stessi ambienti, ma non in contemporanea, quando appunto Santa vagliava la possibilità di una scelta in seminario a Bari. Senti, Rosa Maria, in famiglia questa ombra, mi piace che tu la definisca così, permetti una delicatezza che forse è molto cristiana, probabilmente. Cosa vi racconta? Da subito capisce che questa storia comincia ad essere pesante o la trattiene in sé? Assolutamente. Immediatamente, Santa, quando appunto nel ritorno a casa, dopo aver ascoltato anche Don Carlo Colasuono, appunto il suo professore, che le diceva guardati bene da questa persona, perché noi in chiesa nella Curia Barese la conosciamo, Santa arriva a palo con il treno, ma nel treno era salito anche lui, e immediatamente dall'allarme al capostazione, che chiama, non era epoca di telefonini, quindi chiama immediatamente i miei genitori, corrono a prenderla. Santa capisce che non è una storia che si conclude in quella giornata, tanto che invita papà ad andare in questura e papà, chiaramente, da poliziotto, servitore dello Stato, che però non ha visto tutelata assolutamente sua figlia, l'accompagna, quindi nascono e vengono su immediatamente le prime denunce, capisce che c'è qualcosa di molto più grande, molto più terribile. Senti Rosa Maria, come cambia se cambia lo spirito di Santa? Immaginate cosa significa avere una persecuzione, di questi termini dobbiamo parlare, ma al tempo stesso però continuare a fare quel cammino che la porterà poi così lontano. La vedi incupire, che cosa cambia in lei? Allora intanto effettivamente parliamo di persecuzione perché a quell'epoca il termine di stalking non c'era, quindi si trattava di un maniaco, di un pazzo, ma per noi era il vedersi accanire su una ragazza che in effetti stava compiendo una scelta, anche se lui non poteva saperlo e questa cosa a me dava proprio l'impressione e condividevo con Santa l'idea che c'era dell'altro dietro questa persona che era comunque una persona molto debole, anche se apparentemente potente. Io ho visto il cambiamento di Santa non immediatamente, cioè Santa non si è incupita, Santa ha continuato a desiderare e a vivere la bellezza della sua libertà interiore, perché quella fisica era veramente limitata, proprio nella ulteriore ricerca. Ha continuato ad andare all'università, ha frequentato prima medicina e poi ha cambiato per l'allora facoltà di pedagogia perché pensava a quel punto di non essere più un medico, ma un medico delle anime, su suggerimento anche delle persone che la circondavano, ma è chiaro che sentiva il pericolo, Santa non ha mai sottovalutato nulla. L'incupirsi arrivava nel momento in cui riceveva biglietti farneticanti o incontrava Giuseppe in ogni dove Giuseppe Di Mauro, dobbiamo dirlo, era presente dovunque lei fosse, all'università e quindi era accompagnata da mamma, da me, dagli amici che non l'hanno mollata un attimo, Don Tino stesso. Facevate a turno per venire a prendere, per portarla dove doveva andare, ma senza mai rinunciare. Assolutissimamente. Il Dio al quale lei aveva promesso, anche attraverso una consacrazione privata alla Madonna prima, aveva promesso amore eterno in quel momento dove era. Cioè, ci sono dubbi nella presenza di questa carezza dell'anima oppure riesce a scindere le due cose? Allora, dal diario traspare che c'è stata anche una notte buia per Santa, insomma. Come tutti i Santi. Esattamente. Insomma, le persone che comunque dedicano, pensano di dedicare, dopo anche esperienze terrene, perché come le diceva Carmencita, insomma, se uno non fa l'esperienza d'amore terreno, per una persona non può capire anche che cos'è questo amore divino. Però, appunto, lei ha continuato, imperterrita, a desiderare di essere una con Dio. Non si è fatta, diciamo, proprio scoraggiare, se non nei momenti in cui è stata davvero aggredita, anche fisicamente, dal suo persecutore. E c'è un'aggressione. C'è un'aggressione. Il 6 febbraio dell'89, giorno del compleanno di Santa, quindi un regalo magnifico, in cui Giuseppe si fa trovare davanti casa delle missionari dell'Immacolata e nessuno poteva sapere che Santa quella mattina avrebbe avuto il desiderio di stare con il suo Gesù in cappella, come aveva detto a mamma e papà e come aveva poi scritto nel diario. Quindi questa presenza, onnipresente, mette Santa nelle condizioni di essere triste, soprattutto. Senti, Rosa Maria, avete mai fatto out-out a Santa? Ti salvi la vita se non esci più, se non ti muovi più, se non fai più niente? Ok. Assolutamente mai. Questo no, l'abbiamo sempre accompagnata, l'abbiamo sempre protetta, ma non l'abbiamo mai impedito, nonostante la tristezza e l'ansia, l'angoscia anche di mamma e papà, perché chiaramente proteggere una figlia, la più piccola fra l'altro, era assolutamente un diritto, ma una necessità, insomma. Il bisogno di vederla al sicuro era grande. È chiaro che eravamo tutti più tranquilli quando era a casa, ma non potevamo impedirle di vivere le cose belle che da sempre lei desiderava vivere. Ovviamente scortata, scortatissima, che era veramente un limite grande, ma ha vissuto davvero fino all'ultimo quello che si era messa in testa di vivere, non sottovalutando mai nulla. Fermiamoci soltanto per un istante qui. Fino all'ultimo tenete a mente queste parole. La storia di Santa ritorna subito dopo questo spazio pubblicitario. Non ve ne andate, perché strapperemo un'altra pagina e arriveremo ad altri momenti della vita di questa donna straordinaria. è un martirio, perché Santa ha risposto sì al Signore totalmente e nel momento culminante e cruciale della sua vita, in tutta la sua drammaticità, ha anche perdonato l'assassino. E questo è un capolavoro di Dio, è Dio che con lei ha compiuto la sua opera. Bentornati, bentornati in studio. Questa immagine bellissima che abbiamo alle spalle, un cappotto rosso che è il simbolo dell'amore. È un cappotto indossato da Santa Scorese, una giovanissima donna innamorata di Dio che sceglie Dio nonostante tutto. vittima di una persecuzione che poi la porterà alla morte. Permetteteci di dedicare questo spazio oggi con l'onore che abbiamo di avere Rosa Maria Scorese, la sorella di Santa, alle donne che ancora oggi muoiono per amori sbagliati. Quando è che cominciate a capire? Posso permettermi di chiederti, mamma soprattutto che ci sta guardando e che io saluto, mamma comincia ad avere un'inquietudine dentro che va oltre l'immaginabile, ma le mamme queste cose le sanno. Sì, penso che sia normale che le mamme le sentano. Mamma aveva proprio la lucidità di capire che c'era qualcosa di veramente terribile. Si è data da fare come una forse nata, posso dire, insomma, per difendere, per andare fino in fondo nel ricercare una possibilità di salvezza per Santa, soprattutto dopo la prima aggressione, ma insieme a papà, hanno fatto di tutto e proprio dopo quel 6 febbraio dell'89 insieme ci siamo recati tutti e quattro, anche in tribunale dove papà prestava servizio. Ci siamo rivolti a dei magistrati notissimi già a quell'epoca che però, come spesso succede anche oggi purtroppo, anche oggi che abbiamo degli strumenti legislativi che dovrebbero tutelare le donne, ci hanno risposto con una sorta di sottovalutazione del rischio e hanno detto proprio a Santa, che era già proprio posso dire anche schifata da quello che aveva vissuto nei giorni precedenti, signorina piccolina com'è, se avesse voluto farle del male gliel'avrebbe già fatto e poi mica possiamo metterle la scorta. Quindi questo grande senso di frustrazione anche, di mamma e papà ma di Santa stessa. Io ho impresse queste parole. Mamma l'ha accompagnata fino alla fine, cioè immaginate una giovane ventenne, ventunenne accompagnata all'università e fra i banchi sedere con la mamma. Quindi anche di fronte al professore di sociologia che le dice signorina merita 30 questo esame, ma le metto 28 perché non l'ho vista frequentare sempre. E Santa che gli risponde, professore sapesse cosa ha vivo ed era anche stanca di dover dare spiegazioni a tutti, no? Immaginate lo stato d'animo anche di mamma. Io immagino in questo momento lo stato d'animo di quei magistrati, perdonatemi, anche di questo professore o di questi professori e di quanti non hanno saputo capire che cosa sarebbe successo di lì a poco. Ti posso portare a quel maledetto 15 marzo? Sì, quel giorno appunto mamma era tristissima, non sapeva darsi una ragione e Santa aveva frequentato appunto la lezione, era tornata con gli amici, con Don Tino Lucariello che l'aveva accompagnata e il pomeriggio era uscita per andare a trovare una coppia che lei seguiva, una coppia giovanissima e che era poverissima e che lei sosteneva e stava preparando anche ai sacramenti. E quando diciamo sostenere mi permetti diciamo anche di portare da mangiare il pane, questo lo voglio dire perché una cosa qui tengo in maniera particolare, è quell'amore che avvolge tutto e che comprende tutto. Esatto, Santa mi torturava perché questa coppia aveva anche un bambino piccino coetaneo della mia bambina e quindi quando facevamo la spesa era come crescere due gemelli e Santa insisteva sempre, ma questa cosa ci stava benissimo e quindi uscì da casa di queste persone, noi sapevamo quando Santa usciva da casa di questa coppia perché portava un odore di umido addosso legato al fatto che vivevano in estrema povertà in un ambiente poco salubre insomma ed era andata alla Catechesi di Azione Cattolica in Chiesa Matrice a Palo del Colle. Quella sera fu una sera fantastica dal punto di vista della Catechesi perché Don Tino e gli amici raccontano che essendo il periodo in cui sbarcavano i primi albanesi in Puglia, parliamo dei primi anni 90, Santa parlò alla maniera in cui parlava Don Tonino Bello della chiesa del grembiule, dello sbracciarsi per affiancare alla preghiera che pure era una costante nella sua vita, un'azione, la carità e all'uscita si erano trattenuti sul sagrato della chiesa, poi le avevano chiesto gli amici se volesse essere accompagnata come sempre facevano e lei esorcizzò la paura perché aveva la mia automobile là davanti ai gradini di piazza della Minerva a Palo del Colle e quindi disse anche sorridendo che il massimo che poteva capitarle era di trovare Giuseppe sotto casa, ovviamente non se lo augurava ma Giuseppe sotto casa c'era davvero. Io ero uscita poco prima da casa dei miei, avevo chiuso il portone e questa cosa non me la perdonerò mai e poi lei è arrivata nel cortile, ha probabilmente suonato ma alle sue spalle sicuramente c'era Giuseppe già. Ti fermo un momento, ti fermo un momento perché c'è un'altra pagina di questo diario che abbiamo strappato, un altro dono che ci fa Federica Torchetti, lo ascoltiamo e poi rientriamo qui su queste poltrone è un tempo di grandissima prova per me e sento di dover essere più fedele che mai a Gesù, quel Gesù che mi ha chiamata e a cui ho risposto, sto vivendo una condizione particolare perché non posso uscire da sola a Bari, c'è un ragazzo di 30 anni che mi sta dietro da giugno e qualche settimana fa mi ha aggredita però non so bene se per violentarmi o per uccidermi, io non ho niente per fermarlo, nemmeno una denuncia ci riuscirebbe, io non lo so né come né quando finirà questa storia però ti posso assicurare che è un vero incubo, prega per me. Ti posso chiedere di venire un momento qui da noi Federica Torchetti che io ringrazio è uno dei talenti di cui sentirete parlare ma già la conoscete, accomodati a parte che sei uno scricciolo anche tu e sei un incanto, hai un volto che è bellissimo, perché abbiamo chiesto a Federica Torchetti prima di ritornare sotto quel portone che Federica è la voce narrante di un film straordinario che trasmetterà TV2000 il prossimo 24 novembre in seconda serata intorno alle 22 e 55 ed è Santa Subito di Alessandro Piva, realizzato tra l'altro lo dobbiamo dire perché è un ringraziamento con la Fondazione per il Sud, la Puglia Film Commission è un cameo permettetemi, è un docufilm e tu Federica ti sei prestata, hai dato la tua voce, tu sei stata la voce di Santa, cosa ti ha dato questa esperienza umanamente, dal punto di vista artistico sei già straordinaria e bravissima, poi crescerai anche in quel caso, però a te come giovane donna che cosa ti ha dato interpretare Santa? Allora innanzitutto grazie, grazie anche a Rosa Maria per avermi fatto entrare nella sua famiglia e ad Alessandro Piva. Ecco allora Alessandro Piva mi ha chiamato a marzo del 2019 mi ha detto che c'era la possibilità di fare questo documentario e appena mi ha detto insomma il nome della ragazza Santa Scoresi mi si è accesa una sorta di ricordo perché quando io andavo a liceo e facevamo in occasione della giornata contro la violenza sulle donne facevamo una sorta di commemorazione per le donne vittime di femminicidio e tenendo un nastrino rosso tra le mani ognuna di noi diceva ad alta voce il nome di una donna vittima di violenza insomma a me era capitato il nome di Santa tra l'altro ma era una storia che non conoscevo in maniera profonda poi grazie a questo documentario grazie io ho letto tutti gli scritti di Santa quindi appena ho letto il suo diario quello che è emerso è stata questa sua grandissima voglia che aveva di vivere questo suo amore incondizionato che è difficile da dare per tutti questo suo essere dedito a cioè verso gli altri l'amore per il prossimo faceva volontariato era una ragazza determinata quindi una ragazza che amava sai Federica imparare questo tipo di amore questa è una scuola vera e propria tra l'altro come vedi le cose ritornano questa è una cosa straordinaria e tra l'altro Federica dà voce anche ai momenti più tremendi della storia di Santa Scorese che abbiamo lasciato quel maledetto 15 marzo e sera ritorno di una serata bellissima sotto quel palazzo che involontariamente era stato chiuso al portone quando cominciano le urla che cosa trovate cosa scopre papà prima e poi mamma Rosa Maria papà si affaccia al balcone assiste appunto all'accoltellamento della sua figlia più piccola che quel punto non era riuscito a far proteggere dallo stato che serviva e quindi si è precipitato per le scale e ha cercato di sollevare dal corpo di Santa quello del suo assassino che diceva lasciami finire e poi mi ammazzerò anch'io sono passati quasi 32 anni e questa questa persona è ancora per fortuna diciamo viva e vegeta e a quel punto si è precipitata giù anche mamma e Santa l'ha chiamata flebilmente quindi avevamo speranza che potesse salvarsi e nel frattempo sono stata chiamata io che ero appena appunto tornata a casa quindi con mio marito siamo tornati là nel cortile dove c'era già tantissima gente a corsa e poi appunto mio marito e mio zio hanno accompagnato Santa in ospedale perché l'ambulanza tardava ad arrivare e quindi al policlinico di Bari io non ho capito più niente non l'ho raggiunta non ricordo neanche con chi sinceramente e l'ho vista passare dal pronto soccorso alla rianimazione dove poi tenteranno un disperato intervento e le ho chiesto non so perché non so veramente non lo so di riaffidarci entrambi all'immacolata qui eravamo consacrate con il gruppo dei giovani nell'ambito della milizia dell'immacolata e lei mi ha fatto un cenno con quegli occhioni grandi alla Federica Torchetti insomma meravigliosa e quindi è stato il momento di più alta comunione di unità fra noi ci ripassava Mary è passata davanti agli occhi tutta la vita tutti i vissuti bellissimi anche quelli in cui ci menavamo insomma tutto quello che avevamo vissuto in quei 23 anni Federica tu non hai trovato mai parole di odio nei diari li hai letti tutti laicamente che idea ti sei fatta di questa donna? no non ho mai trovato nessuna parola di odio la verità aveva cioè riusciva sempre a vedere il bello anche nella parte insomma peggiore no mai che spiegazione si dà e perché si è iniziato un processo che grazie a Dio sta portando i suoi frutti Rosa Maria? allora Santa in realtà con quel sigillo dopo l'ultimo biglietto farneticante del suo persecutore o mia o di nessuno e nemmeno di Dio vive come dice di lei poi Chiara Lubic questa coerenza eroica l'andare controcorrente fino alla fine fino a dare tutto e diventa modello immediato per tanti giovani soprattutto quelli che l'hanno conosciuta e quelli che ne hanno sentito parlare quindi tantissimi giovani soprattutto hanno chiesto a Monsignor Magrassi all'epoca arcivescovo della diocesi di Bari Bitonto di occuparsi di aprire un'inchiesta diocesana ed allora devo dire è diventata uno specchio è un processo che appunto si è concluso nel giro di un anno a Bari e poi tutto l'incartamento è stato portato in congregazione per le cause dei sani Rosa Maria io ti devo un doppio grazie perché ogni qualvolta una sorella deve tirar fuori dallo scrigno della memoria questo dolore è una fatica inumana ma ti diciamo grazie e permetteteci di dire un grazie anche ad Alessandro Piva che con una grazia soprannaturale ha dipinto questo ritratto che andrà in onda ve lo ripetiamo il 24 novembre questo è il film grazie guardate grazie a tutti papà e mamma scorese vi verrò a trovare un giorno è una promessa io mi sono voluta trattenere con voi non potevo non farlo mi alzo perché di un altro amore vi vogliamo parlare questo amore che può veramente tutto benvenuti ci sediamo guarda ci sediamo insieme accomodati Nicolai Prespia grazie di essere venuto grazie a voi di un altro amore ma poi l'amore è solo quello l'amore è quello che fa accogliere in una famiglia un bambino e un fratello e una sorella che non si conoscono e li fa amare per quello che sono Nicolai è una penna bellissima che io ho scoperto casualmente che ha pubblicato questo romanzo da Svidania che possiamo dirlo è la tua storia Nicolai ti posso dare il tuo potresti essere mio figlio è la tua storia Nicolai? sì è la mia storia e racconto il mio percorso in Russia perché io sono stato adottato da una coppia di maestri siciliani e racconto dalla nascita fino agli otto anni e vissuti in Russia quindi cerco di focalizzarmi sui ricordi e di ripercorrerli cercare di capire determinate situazioni per poi arrivare alla parte migliore della mia vita che è appunto l'adozione senti Nicolai quando io ho avuto questo libro tra le mani temevo di patire quel dolore che a volte ti fa indignare quello che ti fa venire l'orrore addosso e invece anche quando Nicolai racconta di cola di questo bambino dei capelli come il grano e gli occhi come il cielo i capelli li hai persi ma gli occhi sono rimasti quelli lo fa con una delicatezza che a me ha molto stupito tu hai sofferto tanto, otto anni dentro un orfanotrofio vedere poco mamma che chiami solo la fine del tuo libro mamma perché tu parli della donna che vi ha messo al mondo a me questo ha fatto molto male che ricordo ti ha accompagnato per i primi otto anni della tua vita, della tua mamma permettimi di chiamarla così diciamo è stato sempre ambiguo sempre tra quello che poteva essere l'amore e anche un po' di odio perché non capivo determinate dinamiche però poi sono riuscito a capire che comunque è il contesto che rende le persone per quelle che sono e il contesto nel quale lei era nata era molto complicato quindi ormai è una figura molto positiva estremamente positiva e anche il libro mi è servito a focalizzarmi su determinati ricordi e salvarmi mentre scrivevo i migliori e riuscire a fotografare quelle immagini come nel caso di Irina in maniera estremamente positiva tu frequenti i giri per tre orfanotrofi prima di fermarti sono ambienti molto duri li racconti come queste ex caserme militari riattate ma incontri anche lì l'amore ti faccio dei nomi Babushka Faia mi sono innamorata di questa chiamiamola nonna è una parente acquisita in realtà dimmi ecco io ti dico declinami l'amore di Babushka in questo libro la speranza e la dolcezza la capacità di comprendere di fare un gesso quello di portarci al primo istituto quindi di allontanarci da quello che era la mia famiglia la nostra famiglia che era comunque Irina lei si rende conto che deve fare questo passo quindi è enorme gratitudine infatti nel libro poi rimpiango di non averla mai ringraziata ecco il direttore perché guardate che ci sono sempre delle anime meravigliose anche in contesti difficili il direttore che ti insegna a leggere che ti insegna il valore della lettura sì il direttore Nicolai Nikolaievich è stata la prima figura tra l'altro per me paterna quello che sta dicendo di più è una figura paterna e mi ha spiegato l'importanza di leggere l'importanza di quelle che potrebbe essere poteva essere la cultura ed è stata anche la prima figura maschile e per me non violenta anzi è la dimostrazione che anche l'uomo poteva essere dolce buono e poteva voler bene senti Nicolai i primi amici tu te li fai là ne ricordi nome e cognome nome più che altro che cos'è l'amicizia tra posso dire disperati che vengono appunto lasciati in un ambiente che non è il loro anche se poi dopo capiscono che anche quello concorre a loro bene in questo caso penso che la base sia stata la disperazione la consapevolezza di essere accomunati dallo stesso destino quindi nonostante diciamo iniziale chiusura raccontandoci le nostre esperienze quindi anche il dolore si è creato un legame immortale infatti io nonostante non abbia più contatti con loro ci penso spesso e mi auguro sempre che possano insomma aver avuto la mia stessa fortuna senti Nicolai questa cosa però che tu rimpiangi queste figure non le hai più cercate e me la devi spiegare in maniera più approfondita ce ne andiamo un minuto in pubblicità tanto noi non ci muoviamo da qui e così approfitto per dire se mi portate il libro perché io voglio la dedica di Nicolai pubblicità chissà se c'è una famiglia che ci amerà incondizionatamente per quello che siamo già con queste parole bellissime un bimbo Cola e sua sorella Anna raccolgono il sogno di una vita quello di avere dopo anni di orfanotrofia una famiglia che li possa accogliere questo sogno si realizza quel bambino è cresciuto oggi è Nicolai Prestia che noi ringraziamo ed è autore di questo libro meraviglioso scritto in punta di penna che si chiama Da Svidania Nicolai Da Svidania lo stavamo dicendo prima è un arrivederci ma per come l'ho vista io molto umilmente mi sembra anche benvenuta a vita nuova una vita che ti ha portato in Sicilia papà e mamma papà Benedetto e mamma Nicoletta che un giorno vi vengono a prendere ci racconti quell'istantanea con gli occhi di cola Ok hai detto bene che Da Svidania significa arrivederci ma anche un nuovo inizio questo inizio avviene negli ultimi giorni di agosto del 1998 quando vengono questi due signori nell'istituto per adottarci era già successo che insomma ci fosse capitata occasione di parlare con gente interessata in adozione ma non avevo mai scattato una scintilla mentre con loro è scattato qualcosa di incredibile a pelle anche perché io esteticamente ero identico a Nicoletta e Anna è identica a Benedetto cosa vedi in quel sorriso e negli occhi di papà? che loro ce l'hanno fatta e non ce l'abbiamo fatta quindi ci siamo incontrati mamma mia che bella risposta che hai dato senti cola c'è questa storia d'amore sotterranea che è quella che ti lega a tua sorella che qui poi sarebbe diventata Anna che noi salutiamo perché abbiamo provato a convincerla a venire e non ci siamo riusciti tu per ben due volte rifiuti l'adozione perché capisci che volevano solo te cosa è stato avere tua sorella nello stesso istituto e Danvia insieme a lei per una nuova vita? l'unico motivo l'unico senso di non abbandono era un qualcosa di mio nel senso che comunque è stesso sangue avevamo la stessa sofferenza stesso destino quindi comunque era necessario avere lei nel presente nel futuro per portare me stesso appunto nel futuro quando hai fatto pace con il tuo passato? me lo dici? ho fatto pace nella stesura di questo romanzo perché ho scavato parecchio nei ricordi alcuni neanche non sapevo di averli scrivendo invece sono usciti fuori e ho accettato parecchie cose mi dici solo una curiosità perché non hai più cercato né questa donna che vi ha regalato pochi momenti di casa perché non hai più cercato i tuoi amici perché non hai più raccontato a quel direttore che ti ha tanto voluto bene o l'infermiera che ti fa il primo regalo perché non hai detto com'è bella la tua vita oggi? perché per quanto riguarda i miei amici la paura di scoprire magari che per loro il destino non sia stato così positivo come per me e poi sempre quella sensazione di essere in ritardo perché comunque ho moderato dopo la vera adozione il vero fatto di essere in Italia crescendo quindi sono passati tanti anni e magari provare a cercarli e non trovarli o trovarli in condizioni disperate un po' da codardo preferisco immaginare sia andato tutto bene anche a loro guarda che questo si chiama amore non è codardia questo è quell'amore che ci fa sognare il bene anche di chi ci è accanto a mamma e papà che cosa dici oggi e che reazioni hanno avuto a leggere queste storie allora dico grazie questo lo sanno e la reazione è molto positiva perché hanno potuto anche capire bene quelle che potevano essere i miei pensieri sul passato e ovviamente è felicità perché comunque il libro è un mezzo per noi della famiglia per ricordarci quello che siamo stati senza di loro e loro senza di noi prima di incontrarci e quello che siamo adesso chi sei tu rispetto a quel bambino dai capelli di grano e gli occhi di cielo molto taciturno che però mi va a mangiare come ti racconti è che sono rimasto abbastanza taciturno è proprio consapevole è in grado di sicuramente di razionalizzare gli episodi della vita non vederli necessariamente il negativo appunto trovare una speranza ecco perché infatti il libro è uno dei messaggi volevo lanciare con il libro era sperare sempre comunque guarda il messaggio è arrivato forte e chiaro perché hai parlato di un amore che va oltre la miseria dell'umano che come tu detto è giustificata dalle circostanze in cui ci troviamo non esiste il male assoluto forse in certe situazioni io ti dico una cosa impara a parlare un po' di più perché sei stato faticosissimo lo sai ma recupera con la scrittura perché tu hai un dono hai un grande talento io sono felice che tu sia venuto in questo studio Nicola Presta ti chiamo Nicola alla nostra maniera Nicolai chiamatelo anche Cola Presta ti assicuro che da Svidani è un dono per chi lo leggerà grazie di essere stato con noi grazie io non mi muovo vi faccio vedere ancora questa mela che poi rappresenta la mamma che gli regala una mela due mele che poi due parti che combaciano perché oggi vorremmo chiudere un cerchio oggi è la domenica di Cristo Re è l'ultima domenica prima dell'avvento e ci è venuto in mente un altro dono da farvi un minuto prima di andare a Lourdes quello di portarvi ad Arenzano dove c'è un piccolo bambino è un Cristo è Gesù bambino Re e lì ci aspetta padre Davide Sollami e padre Pier Giorgio Ladone che io ho visto prima durante la pubblicità pronti eccoli padre Pier Giorgio grazie di essere con noi allora questo bambino buonasera grazie a voi che cosa ci dice padre Pier Giorgio cosa dice oggi o giornata abbiamo detto domenica del Cristo Re dice molto perché è un'occasione per noi per giustificare anche questa nostra devozione perché Cristo Re alla fine di un anno liturgico sta ad indicare una domanda ci impone una domanda se veramente ci siamo l'abbiamo fatto entrare come Signore Re della nostra vita della nostra storia e c'è un'affinità molto forte con la nostra devozione non solo perché entrambi sono Re ma proprio perché il Vangelo parlerà di Gesù in croce che domina diciamo che esercita la sua regalità sul trono della croce e noi abbiamo il Gesù bambino piccolo che l'esercita nella culla se possiamo dire entrambi sono in una situazione di deficienza diciamo di debolezza il bambino è indifeso Gesù in croce è sconfitto muore e agli occhi della ragione umana è un fallito diciamo è un perdente ma proprio in questo stato di indigenza diciamo così che gli accomuna sta la vera forza della regalità perché sta l'impegno ad abbandonarsi come fa un bimbo e come ha fatto Gesù in croce al progetto di Dio alla volontà di Dio Padre Davide nel Vangelo di oggi facciamo fatica a immaginare un Re in croce ma attenzione un Re che sta dentro al nostro dolore sembra quasi annegare o nuotare con noi che cos'è quel santuario che noi abbiamo imparato ad amare grazie anche alla messa che trasmettiamo da lì ogni giorno cosa è diventato negli anni nei decenni a Renzano è un'ancora è un'ancora di salvezza il trono di Gesù lo sappiamo è la croce il Gesù Bambino di Praga qui ad Arenzano come a Praga custodito da noi frati carmelitani porta la croce sul mondo che regge sulla sua mano destra che è una mano piccola ma forte e quindi noi vediamo ancora oggi in questa giornata di Cristo Re le persone che vengono qua si appellano affidano a Gesù Bambino i loro figli usano l'olio benedetto della lampada di Gesù Bambino che portano nelle loro case ai malati agli anziani che non possono venire fisicamente quindi è veramente la nostra ancora e voi siete la nostra padre Davide Sollami padre Pier Giorgio Ladone io mi alzo vi ringrazio vi dico anche grazie perché portate carezzi all'anima in questa televisione e da Arenzano bellissima questa immagine da Arenzano da quel Gesù Bambino con una corona che piange le nostre stesse lacrime noi vi portiamo a Lourdes laddove cielo e terra si toccano restate sempre con noi collegati se volete la domenica perché ne vale la pena la vita è più bella almeno speriamo con finalmente domenica grazie grazie a tutti grazie a tutti